Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma code tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino, mentre in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bibio con la variante di Valico. Ancora verso Bologna rallentamenti per perdita di carico tra Monte San Savino e Valdarno. In FIPILI rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Si ricorda che fino all'8 dicembre resta chiuso per lavori il tratto al chilometro zero della strada provinciale 224 di Marina di Pisa, ossia allo svincolo di via Quaglierini al Livorno della FIPILI, per una frana avvenuta al chilometro 79 865 proprio della FIPILI. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!